Ehi, Troy, che ci hai fatto con Andy? Ci sei andato a letto? Siete proprio degli immaturi, ma perché non crescete? E dai, dicelo! Coraggio! Mettiamola così, ancora non ci sono andato. Ho detto ancora no. Che cavolo! Che desiderio hai espresso? Di andare a letto con Andy. Ehi, chi c'è laggiù? Troy! Ehi, ragazzi, è Troy! Troy! Sembra Andy. Anzi, sono sicuro, è lei. Andy, sei tu? Sì, Troy, sono io. Siamo bloccati qui, per favore, manda giù il secchio con la corda. Ma siete matti? Che diavolo ci fate in fondo al pozzo? Non mi fare domande stupide, siamo bloccati, manda il secchio! Alla fine del mondo. L'avete visto? Qualche volta i desideri si realizzano.